Il murale che ho realizzato qui a Mileto si intitola Mileto corre veloce ed è un tributo vero e proprio per la città di Mileto, città di tappa del Giro d'Italia 2020. Sono orgoglioso di questo lavoro perché il mio nome viene associato ad un evento così importante e così storico. Volevo rappresentare la velocità, nello stesso tempo la leggerezza e la felicità e infine la passione, la passione che lega Mileto al ciclismo. Infatti il personaggio che io ho realizzato innalza le mani di gioia e con un dito tocca un grande cuore. Mi sono ispirato a De Pero, un murale di pura ispirazione futurista. L'immagine iconica di cicli bianchi l'ho smontata e rimontata e l'ho fatta mia associandola a quella che è la mia ricerca artistica che è quella del robot. E poi un lettering puro, molto immediato che è il linguaggio dei graffiti da cui io arrivo per scrivere e celebrare appunto Mileto, Giro d'Italia 2020. Sono molto felice che questo murale sia venuto così bello e gioioso. Grazie per la visione!